La notatrice bengalese Indria Sharman è morta domenica come comunicato dai medi indiani dopo aver avuto molteplici arresti cardiaci. Aveva 24 anni ed è stata ricoverata in ospedale il 1 novembre dopo un ictus a seguito del quale le sue condizioni hanno continuato a peggiorare. Dopo alcuni segni di miglioramento purtroppo sono giunti diversi arresti cardiaci che non li hanno lasciato scampo. Come comunicano i media locali sono in corso le indagini per appurare le cause esatte della morte della giovane donna.